Dunque, dopo aver visto il principio di funzionamento, vediamo le regioni di funzionamento del bipolare. E partiamo da quella che abbiamo chiamato prima, zona attiva diretta. Quindi, la guardiamo adesso, dopo aver visto il principio di funzionamento, adesso la guardiamo utilizzando il modello di Ebers e Mol. Dunque, in zona attiva diretta abbiamo detto, parlando sempre del transistore NPN, che utilizziamo come riferimento, abbiamo VBE maggiore di 0 e VBC minore di 0. Quindi, disegniamo di nuovo il circuito che corrisponde al modello di Ebers e Mol, cioè la base, l'emettitore, questo è il diodo di emettitore, Questo è il diodo di collettore, il collettore, e poi ci sono i due generatori controllati. Allora, la cosa importante da considerare è che il diodo di collettore è polarizzato in inversa. Allora, quando è polarizzato in inversa, ovviamente, la caratteristica si semplifica molto. Vedete, abbiamo VBC diviso VT come argomento dell'esponenziale, poi meno 1. Che cosa succede? Che praticamente, in inversa, l'argomento dell'esponenziale è negativo. Diciamo, se VBC è abbastanza più grande di VT, l'esponenziale complessivamente diventa trascurabile rispetto a meno 1. Quindi, in questa parentesi quadra, il valore che otteniamo è praticamente meno 1 e quindi CD fa meno in CS. Quindi, faccio questo trattino dell'approssimativamente, ma insomma, è molto buona come approssimazione. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che se scrivo l'espressione della corrente di emettitore e della corrente di collettore, le cose si semplificano notevolmente. In particolare, la corrente di emettitore è uguale a meno IED più alfa RICD. Mi ricordate? Questo è guardando il nodo di emettitore. Questo è applicando il principio di Kirchhoff al nodo di emettitore. Quell'ICD è uguale a meno ICS, quindi questa viene meno IED meno alfa RICS. Analogamente per IC vale, e questa relazione IC è uguale a meno ICD più alfa F IED. E quindi, siccome meno ICD è uguale a più ICS, posso scriverla come ICS più alfa F IED. Allora, adesso che cosa posso fare? Posso prendere IED da qui e sostituirlo qui dentro. Bene, quindi lo faccio. Mi viene ICS più alfa F che moltiplica che cosa? Prendo IED, esplicito rispetto a IED, mi viene un meno IED meno alfa RICS. Ok, quindi mi viene più meno IED meno alfa RICS. Va bene? Ora qui mi devo ricordare un'altra cosa, segno rosso, che IB più IC più IED sono uguale a zero, cioè la somma e le correnti entranti nel transistore è nulla, quindi meno IED posso scriverla come IB più IC. quindi se sostituisco finalmente qua mi viene IC uguale a ICS più alfa F IB più alfa F IC meno alfa F alfa R ICS. A questo punto sono arrivato dove voglio, io posso scrivere IC in funzione di IB. Vedete, ho due termini con IC, uno è questo e un altro è questo, porto questo secondo termine a sinistra dell'uguale, metto in evidenza IC e scrivo l'espressione per IC, d'accordo? Faccio qualche semplificazione, in particolare questi ICS ce l'ho qua e ce l'ho anche come ultimo termine, quindi posso metterlo in evidenza, ho un pochino di cosmetica, quando vado a scrivere l'espressione totale che cosa mi viene? mi viene questa, viene IC uguale, messo in evidenza, a alfa F diviso 1 meno alfa F che moltiplica il B più 1 meno alfa R alfa F ICS diviso 1 meno alfa F. L'espressione è molto semplice, mi conviene introdurre un po' di definizioni in modo da semplificarla ulteriormente, però vedete com'è che l'ho scritta in questo modo, ho scritto IC come una costante, perché questi parametri sono fissi, sono del modello di Ebers e Mol per B più una costante, e tutti gli altri parametri sono parametri del modello. Allora mi conviene un po' rinominare alcuni di questi parametri, per esempio questa roba qua, tutta insieme, io la chiamo beta F, e questa roba qua, a numeratore, tutta insieme, è una corrente, perché gli alfa sono dei numeri puri, per definizione, quindi questa diventa una corrente, la chiamo IC0. quindi beta è alfa F diviso 1 meno alfa F, guardate che da questa espressione se scrivo 1 più beta F, immaginate fare 1 più questa roba, viene 1 diviso 1 meno alfa F, se faccio 1 più, faccio il minimo che 1 è multiplo, nella frazione al numeratore, alfa F si semplifica con alfa F e rimane solo 1. D'accordo? Quindi riscrivo l'espressione in questo modo, IC viene uguale a beta F IB più IC e più beta F più 1, che è 1 diviso 1 meno alfa F, per IC0. E questa è l'espressione che dovete ricordare, questa espressione è valida in zona attiva diretta. Vedete cosa mi dice questa espressione? Mi dice che la corrente di collettore è proporzionale alla corrente di base e la costante di proporzionalità è beta F più c'è un'altra quantità tipicamente piccola, perché quella IC0 è una corrente di saturazione inversa moltiplicata per un fattore minore di 1. questo mi dà luogo al comportamento da generatore di corrente controllato da corrente, vedete se lo scrivo così io ho che la corrente di collettore è proporzionale alla corrente di base. quindi praticamente, siccome l'altro termine è trascurabile, posso dire praticamente IC è uguale a beta F IB, il resto è trascurabile e quindi ho un generatore di corrente controllato da corrente come volevo all'inizio, quindi se metto il transistore così, metto l'emettitore a comune, la base sulla maglia di ingresso, questo è lo stesso disegno che ho fatto quando ho fatto il generatore di corrente controllato da corrente e il collettore sulla maglia di uscita, vedete questo disegno, l'abbiamo fatto quando abbiamo fatto il generatore di corrente controllato da corrente, nella maglia di ingresso la corrente è IB e nella maglia di uscita la corrente è IC e ho che la corrente nella maglia di uscita è beta F per la corrente della maglia di ingresso, scegliendo la corrente della maglia di ingresso io controllo, quindi la corrente nella base controlla la corrente tra collettore e emettitore. Bene, quindi in zona attiva diretta il transistore bipolare si comporta come un generatore di corrente controllato da corrente, quindi la corrente tra collettore ed emettitore è controllata dalla corrente di base, esattamente quello che volevamo, quindi è in questa zona di funzionamento che il transistore può funzionare da amplificatore o può funzionare da interruttore controllato, come abbiamo visto i generatori di corrente. D'accordo? Allora, questa configurazione si chiama configurazione a emettitore comune, a emettitore comune ed è quella che si adopera per avere il comportamento che volevamo. Perché si chiama emettitore comune? Perché l'emettitore, vedete, è a comune della maglia d'ingresso e di uscita. Il terminale a comune delle due maglie è l'emettitore. E beta F si chiama anche, beta F si chiama anche guadagno di corrente, in configurazione, per essere preciso il guadagno di corrente diretto, quella F sta per in configurazione a emettitore comune. Perché si chiama così? Perché se noi mettiamo il transistore in configurazione a emettitore comune e lo polarizziamo in zona attiva diretta, beta F è il rapporto tra la corrente d'uscita nella maglia d'uscita e la corrente nella maglia d'ingresso. Ok? Quindi cosa abbiamo visto per ora? Abbiamo visto che effettivamente il transistore bipolare può funzionare, se si polarizza in questa situazione, come generatore di corrente controllato da corrente. Chiaramente non è il tipo di, non è il tipo unico di polarizzazione che si può applicare al transistore bipolare, ce ne sono altre, adesso vediamo un po' tutte le regioni di funzionamento. Cosa abbiamo per esempio? Per esempio c'è un'altra regione di funzionamento che è la zona attiva stavolta inversa. zona attiva inversa è come dire l'opposto al termine di disegni della zona attiva diretta. Stavolta stavolta in zona attiva inversa che l'aggiunzione base collettore è polarizzata direttamente, quindi VBC è maggiore di zero, mentre invece VBE è minore di zero. Allora siccome VBE è minore di zero sarà il diodo di emettitore che sarà polarizzato inversamente e quindi la corrente nel diodo di emettitore sarà uguale a meno la corrente di saturazione inversa. Allora se andiamo a disegnare il modello di Ebers e Moll, senza rifarlo tanto è esattamente lo stesso passaggio, il ragionamento da fare è scambiare di posto nel ragionamento emettitore e collettore, i due terminali sono quasi, finora sono esattamente simmetrici nel ragionamento che abbiamo fatto, se scambiamo di posto emettitore e collettore viene un'espressione di questo tipo, IE uguale a beta R IB più 1 più beta R per IE0 dove abbiamo definito beta R come alfa R diviso 1 meno alfa R e IE0 come 1 meno alfa F alfa R per IES. Va bene? Non vi faccio vedere completamente i passaggi perché sono uguali a quelli che abbiamo appena visto per l'altra situazione, semplicemente scambiato di posto collettore emettitore. Qual è la conclusione del ragionamento che vogliamo fare? È semplicemente questo che in pratica di nuovo questa termine IE0 è trascurabile rispetto al resto e abbiamo che IE è beta R per IB. Quindi stavolta di nuovo abbiamo che la corrente di emettitore è controllata dalla corrente di base. Ok? Quindi che vuol dire? Vuol dire che se noi polarizziamo il transistore a collettore comune, quindi mettendo il collettore a comune della maglia di ingresso e di uscita, la base come ingresso e l'emettitore come uscita, che cosa abbiamo? Abbiamo che la corrente di base è la corrente nella maglia di ingresso, la corrente di emettitore è la corrente nella maglia di uscita di emettitore, abbiamo IE uguale a beta R IB. Quindi il generatore di corrente controllato da corrente. Quindi beta R per definizione è il guadagno di corrente guadagno inverso di corrente di corrente inverso, cioè reverse di corrente in configurazione collettore comune. Quindi vedete ho scambiato E con C e C con E in tutte le circostanze emettitore con collettore, basta scambiare la posizione delle parole. Ok? Quindi in zona attiva inversa il comportamento del transistore è esattamente uguale a quello che abbiamo visto in zona attiva diretta. L'unica differenza è che il collettore e l'emettitore si sono scambiati di ruolo e di posto. Va bene? E questo torna perché per come vi ho disegnato il tassello di silicio non c'è differenza tra emettitore e collettore. Vi ricordate? Io ho preso un tassello, vi ho detto NPN, questo lo chiamiamo emettitore e questo lo chiamiamo collettore. Giusto? Quindi è chiaro che è completamente arbitrario l'attribuzione del nome e quindi emettitore e collettore scambiati di posto e devono scambiarsi di ruolo per come l'ho disegnato. D'accordo? Qui non c'è niente di strano. Nella pratica non è vero. Questo è un modello, una rappresentazione molto idealizzata del transistore. Nella pratica non è vero che emettitore e collettore sono esattamente uguali perché non è fatto così nella pratica un transistore. Nella pratica è fatto in modo un po' diverso perché? Perché si cerca di ottimizzare il funzionamento del transistore in una zona di funzionamento, in quella che si chiama diretta, a scapito del funzionamento del transistore in zona inversa. Perché si privilegia una zona rispetto all'altra? Perché si dice tanto lo voglio usare preferibilmente in una zona, allora ottimizzo il funzionamento in quella zona, anche se nell'altra funziona peggio non mi importa, tanto non lo uso. E quindi diretta è quella zona in cui vogliamo farlo funzionare. Come è fatto e perché è fatto così? In pratica se lo rappresento in sezione, vi ricordate, vi ho detto, il transistore viene ottenuto su un pezzo di silicio facendo un processo di, drogando le regioni con un processo di impiantazione ionica e poi annealing successivo. Nella pratica avviene una cosa del genere, si prende una fetta di silicio, ora ve la sto rappresentando in sezione. Per esempio, drogata P, quindi questo è un taglio, ci si realizza all'interno una regione di tipo N, quindi bombardando di ioni donatori quella regione, poi facendo annealing, quindi drogando questa vasca con donatori, poi internamente si droga un po' di più con una regione di tipo P, quindi dentro questa si aggiungono accettori. Cosa vuol dire? Prima si aggiungono accettori in modo da compensare tutti i donatori che c'erano e poi se ne aggiungono ancora, in modo da far cambiare natura alla zona e poi ancora una volta si fa una zona di tipo N, però ancora più forte perché bisogna cambiare la natura, compensare tutti gli accettori che c'erano prima e drogare di più nelle altre zone. Quindi vengono fatte tre regioni di drogate annidate una nell'altra e a queste tre regioni vengono applicati su una faccia i contatti. Si fa così perché poi essendo realizzato su un tassello di silicio poi tutti i contatti si fanno tutti sulla superficie. Quindi ci sono i tre contatti 1, 2 e 3 e questi contatti corrispondono a emettitore, base e collettore. Quindi vedete come l'ho disegnato e come avviene. Il tassello è una idealizzazione. A che cosa assomiglia questo tassello? Assomiglia a questa zona qui. Quindi è la zona più interna del transistore, quello che si chiama transistore intrinseco. Poi tutto il resto serve essenzialmente non tanto al funzionamento del transistore ma quanto a portare la corrente fino al contatto esterno. Qual è la differenza principale tra come l'ho disegnato ora e la situazione ideale che ho fatto prima? Sono due differenze sostanzialmente. La prima è che l'emettitore è drogato molto di più del collettore perché facendo le cose concentriche devo drogare sempre di più perché drogo P dove era già drogato N quindi devo più a compensare tutti i P. Poi alla fine drogo N più dove era prima già drogato P quindi devo drogare molto più. N più vuol dire un drogaggio N molto alto perché deve compensare il P che c'era sotto. Quindi il drogaggio è uniforme quindi emettitore è molto più drogato del collettore. Questa è la prima differenza. Sapete che effetto ha questo. L'effetto è che il valore di alfa F è molto più alto del valore di alfa R. In pratica cioè non molto più alto ma insomma alfa F è quasi 1 è minore per definizione ma è quasi 1 tipo 099 099 5 di modo che venga molto molto alto mentre invece alfa R viene una cosa tipo 06 05 04 proprio pochino molto molto diverso rispetto a 1. Nella pratica guardando le cose dal punto di vista del beta beta è alfa diviso 1 meno alfa quindi beta F viene qualcosa tipo 100 200 perché se alfa F è 099 1 meno alfa F fa 0.01 quindi alfa F diviso 1 meno alfa F fa 99 che è molto grande. Quindi c'è un grande guadagno di corrente al emettitore comune e se guardate invece il guadagno di corrente inverso e provate a fare la stessa cosa alfa R diviso meno alfa R con alfa R 06 fa 06 diviso 1 meno 06 fa 04 e il rapporto fa 1 e 5. Quindi la differenza nel drogaggio fa sì che poi e convenga molto di più ad operare il transistore in zona attiva diretta che in zona attiva inversa perché il guadagno di corrente è due ordini di grandezza più grande. Ok? Questa è la prima differenza. L'altra differenza tra la situazione ideale e quella reale è legata al fatto che ci sono c'è questo percorso per andare al transistore intrinse qua al contatto esterno ed è una regione diciamo con un drogaggio finito quindi in pratica è come se avessi delle resistenze da attraversare che mi portano dal contatto all'esterno ora in queste resistenze in realtà quella che conta di più è quella di base noi considereremo soltanto quella di base che è quella più importante perché in pratica quella di emettitore è corta quindi è bassa è anche molto drogata quindi alla fine conta poco quella di collettore beh potrebbe contare più perché è molto drogata però il collettore è largo quindi ha una resistenza larga che ha un valore basso quella di base invece è mediamente drogata ma è molto stretta perché si cerca di fare la base più stretta possibile e quindi è quella rilevante questo fa sì che io debba tenere conto nella pratica non sbagliare molto dal punto di vista quantitativo del valore della resistenza della base e questa la chiamo RB ed è una resistenza che tengo presente sempre quindi quando vado a fare il modello di Ebers e Mol in realtà ce la includo quindi ho una resistenza della base questo punto della base intrinseca lo chiamo B' lo metto in evidenza e poi ho il modello di Ebers e Mol quindi è una correzione che faccio al modello di Ebers e Mol per tenere presente questa RB è la resistenza serie della base la resistenza che c'è tra il contatto di base esterno e la base intrinseca ripeto dal punto di vista quantitativo è l'unica cosa che effettivamente mi importa per completezza se voglio andare a disegnare dall'alto questo transistore cosa vedo vedo una cosa del genere vedo qua la zona di tipo N poi dentro vedo questa regione di tipo P e dentro ancora vedo la regione di tipo N più e poi vedo dall'alto i tre contatti va bene quindi ho disegnato la stessa struttura del bipolare visto dall'alto va bene allora andiamo a fare l'epilogo complessivo delle regioni di funzionamento ne abbiamo viste due guardate ce ne mancano altre due però le altre due sono molto rapide regioni di funzionamento del PGT perché ce ne sono altre due perché se guardiamo i segni possibili delle due giunzioni sono 4 le combinazioni complessive allora vediamo di andare a rappresentare e poi questo lo porto qui questo lo porto qui e questo lo porto qui diciamo va bene 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 Grazie a tutti. Ok, vediamo un po' se ci abbiamo fatta così. Allora, vediamo di indicare qua la VBE, qua la VBC, qui immettiamo il transistore NPN e poi scriviamo l'espressione. Allora, ricapitoliamo le zone che abbiamo già visto insieme. La zona attiva diretta. Abbiamo detto che in zona attiva diretta la VBE è maggiore di zero, la VBC è minore di zero. Quindi abbiamo, se questo è l'emettitore, questa è la base e questo è il collettore, abbiamo una barriera bassa tra emettitore e base e una barriera alta tra base e collettore. Quindi gli elettroni vanno dall'emettitore facilmente a diffondere nella base e poi finiscono nel collettore. Va bene? E come secondo effetto ci sono le lacune che dalla base vanno all'emettitore. Questi sono i due componenti di corrente principale. In pratica la corrente di base è fatta quasi tutta, in primo luogo, delle lacune che vanno dalla base all'emettitore, in secondo luogo dalle lacune che vanno a compensare gli elettroni che ricombinano nella base, insomma nel effetto secondario. La corrente di collettore è fatta quasi tutta dagli elettroni che dall'emettitore vanno al collettore. Allora qui abbiamo, in questa situazione, abbiamo già trovato l'espressione, questa qui è l'energia potenziale per gli elettroni. Abbiamo qua IC uguale a beta F IB più beta F più 1 per IC0. Va bene? Questa l'abbiamo già trovata. Poi abbiamo la zona attiva inversa. Zona attiva inversa, la VB è negativa, la VBC è positiva. In questa zona abbiamo una situazione opposta che è questa. sempre questa è l'energia potenziale per gli elettroni. stavolta abbiamo la zona attiva inversa che è bassa la barriera tra base e emettitore ed è alta la barriera tra base e collettore ed è alta la barriera tra base e emettitore perché l'aggiunzione base e emettitore è polarizzata inversamente. Quindi abbiamo una situazione esattamente opposta. Gli elettroni dal collettore diffondono nella base e quindi finiscono nell'emettitore. Le lacune dalla base trovano una barriera bassa per finire nel collettore. L'espressione idealmente è uguale alla precedente, cioè abbiamo IE uguale a beta R IB più beta R più 1 per IE0. Quindi tutto esattamente come prima. L'unica differenza è che questa situazione è meno ottimizzata della precedente. In particolare l'emettitore prima era molto drogato e quindi la corrente di emettitore viene molto più alta di quella di base, che dipende da quanto è drogata la base. In zona attiva inversa il collettore è meno drogato della base, quindi la corrente di emettitore non viene più alta alla corrente di base. Questo è il motivo per cui il beta R è molto piccolo. Quindi idealmente il funzionamento è simile, nella pratica siccome i drogaggi sono diversi il guadagno è molto più piccolo. Il guadagno è molto più piccolo. Per completare poi qua abbiamo una zona che si chiama, abbiamo la situazione in cui tutte e due le barriere sono basse, cioè VB e VBC sono entrambi positivi. Ok? Entrambe positive. Quindi che vuol dire? Vuol dire che praticamente tutte e due le barriere sono basse, va bene? Se tutte e due le barriere sono basse, la corrente va facilmente da una regione a quell'altra. Tutti diffondono senza problemi perché la barriera è stata, diciamo, annullata. Questa zona di funzionamento si chiama di saturazione perché in pratica qua avviene che la base viene saturata di elettroni, è piena di elettroni la base e il comportamento analogo più semplice del bipolare è quello di un interruttore chiuso. C'è un cortocircuito tra il emettitore e il collettore. La corrente passa senza problemi. Ok? Ed è una zona di funzionamento che si usa in elettronica digitale perché quando vogliamo utilizzare il transistore come un interruttore controllato, beh, abbiamo due posizioni, chiuso e aperto. Chiuso e qua è in saturazione. Per concludere, c'è l'altra situazione in cui tutte e due le barriere sono alte, cioè le due tensioni di giunzione sono tutte e due negative. In quel caso cosa abbiamo? Ora, lo faccio in scala, abbiamo due barriere molto elevate per cui gli elettroni dell'emettitore e del collettore non possono passare di là. Anche le lacune sono in pratica bloccate nella base e quindi non passa corrente in nessun modo che vuol dire che il transistore si comporta, nella spiegazione più semplice, come un interruttore aperto. Questo è un interruttore chiuso on, questo è un interruttore aperto off. Questa regione di funzionamento si chiama l'interdizione. In altri termini, diciamo, il transistore è spento, cioè non passa corrente, si chiama anche in inglese regione cut off. Cut off vuol dire esattamente interdizione, non passa niente. Allora, quindi questo è l'epilogo delle quattro regioni di funzionamento, le ultime due che abbiamo visto sono adoperate in elettronica digitale, quando il transistore si usa come interruttore controllato e in base alla polarizzazione della base viene controllato lo stato on, lo stato off dell'interruttore. Si usa invece tipicamente in zona attiva diretta quando si vuole utilizzare come amplificatore, perché lì fa proprio il giratore di corrente controllato da corrente. Quindi in elettronica analogica, diciamo, si usa sempre in zona attiva diretta. In zona attiva inversa di solito non si usa mai, cioè è una zona di funzionamento che viene, diciamo, sacrificata per ottimizzare il più possibile il funzionamento in zona attiva diretta. Quindi è tipicamente non utilizzato. Bene, ci fermiamo qua. E per oggi basta.